Sì, grazie. Noi stiamo lavorando da giorni, mentre altri vedo che si preoccupano del Quirinale e prevengo le domande dei giornalisti, non darò alcun commento su qualcosa che accadrà fra gennaio e febbraio, che non è l'emergenza di questo Paese. Quindi lascio che altri si esercitino su dove piazzare Draghi, Mattarella e via dicendo e occupiamoci di vita reale.